dal vangelo secondo luca in quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono a maria giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro tutti quelli chiudivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore i pastori se ne tornarono glorificando e rodando dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato detto loro quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione gli fu messo nome gesù come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo grazie grazie grazie